Buongiorno a tutti. Abbiamo interrotto i cinque giorni, che sono i cinque giorni che si chiudevano di solito a maggio per la preparazione dell'estate, questa volta l'abbiamo fatto per il trasfocco. Ma è questo l'inverno con me? Cioè uno qui fa lo sci fuori pista? Tutto sci fuori pista. Lei ha sciato la lì fronte che era... Ecco, vede qui come hanno sistemato anche tutto il moto tavolo. Molto bene. Buongiorno. Buongiorno, benvenuti in Italia. Ma giornata così, guarda, tutto organizzato perfetto. Vede la venta del Monte Bianco e quella bianca che si vede... E' meglio farli sopra, all'interno. Perché su è un po' proibitivo. Andiamo sopra... Grazie, ti bello. Che meraviglia. Vado a passare il cinema. Con la mano. E che se ne porta, va bene, va bene. Non si può passare a stare. La tua giacca. Non guardate. Vado a passare il cinema.